Dal 1 al 14 giugno torna a Firenze il Festival del Viaggio organizzato dallo scrittore Alessandro Agostinelli con tanti appuntamenti culturali, enogastronomici e laboratori per bambini. Un'occasione ancora per raccontare Firenze soprattutto e la Toscana con messaggi più differenziati. Quest'anno l'edizione parlerà del cibo, della buona cucina toscana, ci saranno eventi dedicati e ancora sollecitazioni diverse. Il desiderio è di raccontare la nostra città, le nostre eccellenze in maniera stimolante, innovativa se possibile. La tredicesima edizione, organizzata dalla Società Italiana dei Viaggiatori con il patrocinio della Regione Toscana, del Comune di Firenze e col sostegno di Toscana Promozione Turistica in collaborazione con Vetrina Toscana, è dedicata in particolare a due temi, quello del cibo e quello delle camminate, un modo slow per riscoprire la città di Firenze. Noi facciamo una conferenza sul cibo nell'arte alle murate domenica 10 giugno e poi due passeggiate sulla Francigena con finale di pranzi in due ristoranti di Vetrina Toscana, uno a San Miniato e uno a Siena. Domenica 10 la mattina, domenica 10 giugno la scalzeggiata alle Cascine, cioè una passeggiata a piedi nudi nel parco, ha avuto successo gli anni scorsi quindi proseguiamo. E poi un'invenzione totale, sabato 9 giugno, la mattina alle 6 all'alba, passeggiata Jodorowsky. Noi facciamo questa passeggiata solo per 22 persone a cui viene affidata a ognuno una carta dei tarocchi e alle 6 di mattina tutti vestiti di bianco in fila indiana faranno questa passeggiata nel centro storico vedendo tutti i monumenti della città o quasi tutti, senza mai curvare, andando sempre dritti. Ai più piccoli è dedicato l'evento Storie della nostra storia a cura di Lucrezia Benvenuti e Marzia Maestri che si terrà venerdì 8 e sabato 9 giugno alle murate. I bambini costruiranno una nuova mappa della città di Firenze a partire dalle storie più importanti disegnandola con i monumenti scelti da loro. Molti anche gli appuntamenti culturali, venerdì 1 giugno alla casa abitata in via del Trebbio si aprirà la mostra fotografica di Andrea Olivi, una serie di immagini in bianco e nero dedicate all'Armenia 40 fotografie scattate tra il 2009 e il 2014. Giovedì 7 e venerdì 8 giugno alla Fondazione Studio Marangoni alle 15 si terrà il workshop di disegno e pittura su Tacquini di Viaggio tenuto da Lorenzo Montagni. Infine alle Serre Torrigiani sabato 9 giugno si aprirà la mostra ai luoghi dell'ingegno e della bellezza curata dal pittore Paolo Soleil. Io sono un artista e presento delle mie opere, il titolo di questa mostra è Alberi, uomini e dei perché si ispira ai giardini e alle Serre Torrigiani che forse non molti sanno che sono sette ettari di un parco meraviglioso e il parco privato più grande d'Europa a Firenze. Mi sono ispirato a questo perché è un'eccellenza che affonda le radici nella storia ma c'è innovazione botanica, c'è innovazione e soprattutto anche internazionalizzazione.